La fiava di Spellboy di Edinburgh Alcuni dei cerbiatti del paese delle Betulle si erano perdutamente invaghiti di Elidor e del suo ineffabile sorriso. Così chiesero un gran favore a Littil, il re degli elfi. Desideravano vedere Elidor mentre giocava con i bimbi sulla piazza di Edinburgh nei giorni che precedono il Natale. Littil, che amava i cerbiatti come figli, fece anche di più. Ogni sera, al tramonto, trasformò i cerbiatti in bambini. Che così poterono giocare con Elidor sulla piazza di Edinburgh, dal sorgere della luna fino a che tutte le stelle si erano accese nel cielo. Grazie a tutti.